Voglio uscire. Armonia Cosmica, a cura di Franco Lanari, Mirella. Va bene, adesso dimmi come ti chiami. Entità, sono Antonio Leonardi e sono vissuto a Treviso nel secolo scorso. Mirella, ora Antonio dimmi quando sei morto. Sono morto nel 1928 e da allora ho fatto molta strada, ma non so perché voi non volete saperne di più. Sono vicino a voi, non so come fare, voglio uscire. Aiutatemi. Mirella, per quale motivo sei morto? Entità, sono morto per un tumore allo stomaco. Ecco, voglio uscire da questa situazione. Siete voi che siete vicini a me ora. Mirella, senti Antonio, ma attorno a te non vedi nessuna luce? Entità, la luce qui non c'è. Non sento e non vedo nessun'altra vibrazione. Come posso fare? È facile per voi che la vedete. Io no. Oh, siate buoni. Aiutatemi. Mirella, Antonio, noi pregheremo per te perché tu non appena prima possa vedere la luce che meriti. Grazie. 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 Grazie.